Rimedi naturali per smettere di fumare. Smettere di fumare è una delle decisioni migliori da prendere quando si è schiavi di questo brutto vizio. Anno dopo anno, si scoprono le terribili conseguenze che questo vizio comporta per il nostro organismo ed è per questo motivo che è in costante aumento il numero di fumatori che vogliono smettere di fumare per migliorare la loro qualità di vita. Anche se molti credono che smettere di fumare sia semplice, in realtà abbandonare questo vizio non è per nulla facile. Il processo per smettere di fumare può essere lungo e molto difficile e richiede un grande compromesso da parte del fumatore. Quasi tutti i fumatori che vogliono abbandonare questo terribile vizio devono fare vari tentativi prima di raggiungere il proprio obiettivo. La cosa più importante è non arrendersi mai e ricordare sempre che è possibile. Se siete tra coloro che ancora non sono riusciti a smettere di fumare, non perdetevi questi consigli e rimedi naturali per abbandonare per sempre questo vizio. Semplici consigli per smettere di fumare. Iniziate fissando una data nella quale smetterete di fumare. Non deve per forza essere il giorno dopo o la settimana dopo. Potete decidere una data non troppo lontana e iniziare a ridurre il numero di sigarette fino ad allora. L'idea è quella di non fumare neanche una sigaretta nel giorno stabilito. Informatevi sui benefici di smettere di fumare per essere più motivati. Sostituite il vizio del fumo con un'abitudine piacevole. Per esempio, potete iniziare a praticare la fotografia, fare sport, incontrare i vostri amici o chiamare i parenti. Condividete con gli amici e i parenti la vostra decisione di smettere di fumare. Possono essere un grande aiuto per evitare di ricadere nel vizio e una motivazione in più per raggiungere il vostro obiettivo. Prima che giunga la data in cui avete deciso si smettere di fumare, buttate via tutte le sigarette che avete e pulite tutti gli angoli della casa e dell'ufficio che sono impregnati dell'odore del fumo. Comprate un salvadanaio e iniziate a riempirlo con i soldi che di solito spendevate per le sigarette. All'inizio potrà sembrarvi una somma insignificante, ma a lungo termine vi renderete conto di quanti soldi si risparmiano quando si abbandona questo vizio. Rimedi fatti in casa per smettere di fumare Oltre ai consigli elencati sopra, potete adottare alcuni di questi rimedi fatti in casa che vi aiuteranno a controllare la voglia di fumare. Ginseng Questa pianta è molto utile perché riduce il piacere che si prova quando si fuma. Un consumo regolare di ginseng può essere molto utile per smettere di fumare, poiché rallenta la produzione di dopamina, il neurotrasmettitore che viene stimolato con la nicotina contenuta nelle sigarette che si occupa di fornire all'organismo una sensazione di benessere. Gomma da masticare La gomma da masticare è diventata molto popolare negli ultimi anni per la sua efficacia nell'aiutare a smettere di fumare. L'ideale è scegliere le gomme senza zucchero, che sono meno dannose per i denti. Questo trucchetto può dimostrarsi molto utile, poiché mantiene la bocca e la mente occupate quando si mastica e dona allo stesso tempo una sensazione di benessere. Valeriana La valeriana è una pianta dall'effetto sedante che può aiutare a ridurre gli episodi di stress e ansia che si manifestano quando si vuole smettere di fumare. Anche se esistono alcune controindicazioni, è stato dimostrato che due o tre tazze di infuso di valeriana al giorno possono aiutare a controllare il desiderio di fumare. Vi consigliamo il consumo di valeriana prima di andare a dormire, per evitare che il suo effetto sedante interrompa le vostre attività quotidiane. Pepe di Cayenna Il pepe di Cayenna è un altro rimedio naturale per eccellenza quando si vuole smettere di fumare. Le sue proprietà aiutano a disintossicare l'organismo dalle sostanze nocive contenute nelle sigarette e riduce la voglia incontrollabile di fumare. Aggiungere pepe di Cayenna alle vostre ricette o usarlo per preparare il tè, vi aiuterà a controllare il desiderio di fumare e stimolerà la pulizia dei vostri polmoni. Chiodi di garofano I chiodi di garofano sono una spezia molto salutare che può ridurre in modo notevole il desiderio di fumare. Vi consigliamo di mettere un chiodo di garofano in bocca subito dopo aver fumato e di tenerlo lì per un paio d'ore.